Rara e Doré di Pisa Trenino con Pinelli che si sgancia appena colpisce la palla del resto c'è un giocatore sul palo quindi ancora e c'è il gol e c'è il gol, entra Laucci tocca il pallone, attenzione Tranni pallone per Pinelli e c'è il gol gol di Piasci sulla respinta ho detto Piasci ancora per Ambrosi fallo c'è il gol da parte di Pinelli da Prato finta Petracci Benedetti 4 a 0 c'è Benedetti è andato in...